Il 10 di giugno si andrà al voto. Pietrasanta è l'unico comune in Versilia e nel resto della provincia di Lucca chiamato a scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Primo turno il 10 di giugno e il 24 in caso di ballottaggio. Sono cinque candidati a sindaco. Noi TV con la nostra rubrica Occhio al Sindaco vi racconto e vi mostro e vi presento tutti e cinque candidati alla carica di sindaco di Pietrasanta. Siamo con Alberto Giovannetti candidato a sindaco del centrodestra, 56 anni, residente a Pietrasanta, imprenditore nel settore dei trasporti con un'ampia coalizione al sostegno politico, ex amministratore, stato assessore, stato vicesindaco, imprenditore e uomo di famiglia. Di tutto questo che cosa prevale? Quale aspetto di Alberto Giovannetti? Di Alberto Giovannetti prevale tanto l'attaccamento alla famiglia, al lavoro e la passione per la politica. Quindi per me la politica è una passione. È sempre stato il mio hobby migliore da sempre. Quindi io ho fatto il capogruppo, ho fatto il consigliere, ho fatto il vicesindaco, ho fatto l'assessore. Sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare insieme all'amministrazione Mallegni. Di tutto questo che cosa mette al primo posto tra il lavoro, la famiglia e la politica? Per me al primo posto c'è la famiglia, poi il lavoro è sacro, poi la politica. Il mio impegno politico è un lavoro importante. Nel momento in cui mi sono sempre impegnato in politica, per me la politica è stata proprio una passione. Stare al servizio della gente, l'ho sempre considerato come una missione. Per me la politica è una missione, non è un arrivo, occupare uno spazio rispetto a una... È una missione stare al servizio della gente, degli imprenditori, ascoltare, confrontarci, parlare. Poi naturalmente uno rimane sulla sua posizione. Però il confronto è fondamentale in politica. Stare tra la gente è fondamentale, confrontarci con la gente è fondamentale. Questo per me è la politica. Lei è stato appunto assessore, vice sindaco nella giunta di Massimo Mallegni, capogruppo della maggioranza uscente. Qual è la cosa di cui va più orgoglioso di quello che ha fatto? Io credo orgoglioso. Io mi considero parte di una squadra. La squadra in cui io ho giocato politicamente, credo che quello che è stato fatto sia sotto gli occhi di tutti. La pavimentazione Piazza Duomo, via Stagi, via Barzanti, il Pontile. Sono state fatte delle cose importanti sul territorio. Solamente dal punto di vista del decoro urbano, credo che sia anche quello un aspetto da ricordare. Perché quello è il biglietto da visita che noi diamo sempre ai nostri turisti, alla gente che viene qua, che vuole passarci una vacanza. Quindi per quello che mi riguarda noi abbiamo investito tantissimo nelle frazioni. Quindi non c'è una cosa in particolare. Sono tante cose. È l'appartenere a una squadra che ha lavorato tanto e si è impegnata tantissimo sul territorio. È ristata confermata per tre mandati. Quindi questo significa che alla fine il centro-destra sul territorio ha lavorato e ha lavorato bene. Io sono orgoglioso. Ma c'è qualcosa che recrimina? Qualcosa che si doveva fare e che è rimasto lì da fare? Che recrimino? Credo da fare c'è sempre sicuramente tanto perché l'amministrazione del territorio è come un'azienda, come un'abitazione. Ci devi ogni anno investire. Ogni anno c'è bisogno di manutenzione, investimenti nuovi. Quindi c'è bisogno di un'attenzione continua. Quindi il territorio è grande. Noi oggi punteremo sulle frazioni. Domani se vinceremo. Perché le frazioni sono un valore aggiunto alla realtà territoriali del centro e della marina. Quindi il nostro sguardo sarà a 360 gradi. Perché anche le frazioni devono essere parte integrante di tutto, sentirsi proprio un unico territorio. Noi siamo un'unica realtà e quindi dobbiamo puntare a questo per i prossimi anni. Da imprenditore invece di che cosa va maggiormente orgoglioso e di cosa invece un po' meno? Io da imprenditore, io sono un piccolo imprenditore con i miei fratelli, la mia famiglia. Da sempre si amministra delle aziende dei trasporti, dei mezzi di sollevamento. Abbiamo un esercizio commerciale all'ingrosso di prodotti agricoli di grandi marche. Io vado orgoglioso del fatto che in questi anni, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, abbiamo continuato a crescere in tutti i settori. Quindi questo per me è orgoglio. Piccoli passi però sempre verso una crescita continua. E abbiamo avuto soddisfazioni perché poi lavoriamo con i più importanti artisti, scultori di Pietrasanta e quindi siamo riusciti a inserirci in uno spazio, credo, di qualità importante dove abbiamo avuto risultati ottimi, importantissimi. Quindi siamo contenti per questo. È un'ampia coalizione quella che la sostiene, si va dalla lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Partito Liberale, la lista Pietrasanta-Viva. Una coalizione ampia di centrodestra, ma lei si sente di destra o un moderato? Io mi sono sentito sempre un moderato, un centrodestra. Sono iniziato dall'Alleanza Nazionale e sono oggi Forza Italia. Forza Italia, però non è il fatto di, come mi posso sentire, è il fatto di appartenere a una coalizione, a una squadra. Io, per me, la politica non è un fatto individuale, è un fatto di squadra. Ci sono dei ruoli, ogni squadra all'interno della squadra ci sono dei ruoli e questi ruoli vanno, come si dice, accompagnati dalle persone di riferimento. Io ho fatto parte di una squadra in questi anni, mi sento un moderato. Credo che la mia storia sia sotto gli occhi di tutti. Non sono un'estremistra, non sono mai stato, non è nella mia indole. Io sono molto legato alla famiglia, alle tradizioni, come si dice, familiari, normali. Voglio dire, vado in chiesa, ho figlioli, l'ho cresciuti dal punto di vista cristiano, cattolico. Voglio dire, non sono un estremista, sono un moderato, una persona normale come ce ne sono tantissime. Tutto qua. Ha parlato di squadra, a proposito, se diventasse sindaco, che ruolo avrebbe l'oggi senatore Massimo Mallegni? Mallegni, cioè, Pietrasanta, centrodestra. Mallegni, centrodestra, Roma, credo che sia un legame importantissimo, anzi che tutti dovrebbero tenere conto, anche quelli che poi giocheranno alla posizione, perché tutti insieme si riesce a fare delle cose importanti per Pietrasanta. Se si vuole bene a Pietrasanta, non conta se Mallegni è senatore di centrodestra. Oggi credo che sia importante il bene collettivo, il bene della comunità, il bene di tutti, delle imprese, delle aziende, dei commercianti, degli albergatori, dei bagni, di chi gestisce un bagno, di chi vive anche per le fasce deboli. Se noi si riesce a creare e intensificare questo collocamento Pietrasanta-Roma con la persona di Massimo Mallegni, benefici se ne saranno sicuramente a 360 gradi per tutti. Non solo per Pietrasanta, ma tutta la Versiglia, la Lucchesia, l'Unigiana, Massa Carrara, perché poi lui ha avuto un collegio grande e quindi la sua attenzione dovrà essere su tutte e due le province in cui è stato eletto. Quindi è fondamentale che l'opposizione che sarà non faccia un'opposizione a prescindere, che sia un'opposizione costruttiva, di confronto, di cambio di vedute, e poi alla fine si può anche decidere insieme. Non è che l'appartenenza all'opposizione e alla maggioranza ci devessero sparti acqua e netto. Può essere sicuramente su tanti argomenti una condivisione. Questo ragionamento sull'opposizione vale anche per lei se dovesse finire l'opposizione? Ma io non credo che si ripetano gli stessi errori. Noi nel 2010 abbiamo fatto sicuramente degli sbagli. Oggi, nonostante tutto, siamo ritornati nel 2015 a amministrare Pietrasanta. Noi abbiamo dimostrato con i fatti che il centrodestra è avanti a tutti, ha le idee più chiare, più credibili, alle persone più credibili. Quindi non è possibile che i cittadini in questo momento ricommettano lo stesso sbaglio che hanno commesso nel 2010. Perché nel 2010-2015 c'è stata anche la prova tangibile di quello che è stato il centrosinistra. E il centrosinistra è rappresentato dalle stesse persone che hanno amministrato nel 2010-2015. A parte il candidato a sindaco che proviene da fuori. Però quelli che sono dietro, che magari stanno un po' defilati, sono i soliti personaggi. Quindi Pietrasantini non sono, come si dice, ignari di tutto questo. Anzi, sono persone che ragionano, che riflettono. E sicuramente faranno una scelta migliore per il bene di Pietrasanta, come hanno sempre fatto. Quindi il centrodestra, nella sua continuità, è rappresentata in questo caso da me. Nella sua continuità, con le stesse persone che hanno amministrato in tutti questi anni, con l'aggiunta di innesti nuovi, persone nuove, per dare anche un segno di rinnovamento a quella che è la compagine politica del centrodestra. Secondo lei si andrà al ballottaggio e nel caso che cosa farete? Il ballottaggio, io girando il territorio trovo tanta attenzione positiva, tanto clima positivo, tanta crescita giorno dopo giorno. Noi siamo partiti sicuramente in pochino ritardo. Però ogni giorno che passa questo clima positivo cresce. Io non credo che si vada al ballottaggio, non credo proprio. Siamo una grande squadra, ci stiamo muovendo bene sul territorio, stiamo avendo degli scontri importanti. Quindi io credo che alla fine c'è anche un sondaggio che circola, che insomma ci dà delle percentuali altissime. E questa è la strada. Noi arriveremo al 10 giugno che vinceremo al primo turno. Ballottaggio non credo. Poi io non farò apparentamenti con nessuno, tantomeno con quelli che poi vanno in giro a parlare male. Io non ci voglio entrare in questi discorsi, in queste diatribe assolutamente. Io rappresento il centro-destra, la mia forza politica, tutta la mia squadra, tutte le liste. Io vado avanti per la mia strada. Quindi se l'11 giugno sarà sindaco, il 25 lo vedremo, il primo atto, la prima cosa che vorrà fare? Io credo che la prima cosa che vorrò fare, tanto sarà riportare a Pietrasanta quello che è l'archivio dell'edilizia, che non è possibile che sia a Massarosa, che per avere una pratica possa passare un mese. E poi una cosa che io voglio fare, che mi confronterò anche con la categoria dei bagnari, è la revoca della vendita delle spiagge, delle parcheggi agli stabilimenti bagnari. Questa è una cosa che sicuramente cercheremo di fare attraverso il confronto con la categoria dei bagnari. Sul piano della sosta c'è stato quasi un passo indietro in questi giorni, è disponibile a rivederlo? Sul piano della sosta non c'è stato nessun passo indietro, cioè non è perché ha governato l'amministrazione Mallegni, io ho fatto parte dell'amministrazione Mallegni. Noi cerchiamo di ascoltare le categorie economiche, ascoltare i cittadini. Abbiamo avuto questi due anni e mezzo di collaudo, diciamo così, di verifica. Ci sono delle cose che vanno migliorate, le miglioreremo, ma nell'interesse della città, nell'interesse dei commercianti, nell'interesse della gente che arriva da fuori, dei turisti, nell'interesse di tutti, anche di chi ci vive. Noi non siamo a priori a dire questo va bene al 100%, no, noi cerchiamo di portare avanti le nostre idee come da programma. Poi nel momento in cui attuiamo queste idee, è chiaro che ci possono essere dei correttivi, ma non è che è uno scandalo tornare e rivedere le proprie posizioni, anzi, penso che sia una questione anche di intelligenza da parte di chi amministra, perché le cose possono essere migliorate o peggiorate, dipende anche dal contesto. C'è il momento, c'è la stagione estiva, poi c'è l'autunno, l'inverno, la primavera, in cui probabilmente i parcheggi possono essere anche, questa gestione può essere anche oggetto di modifiche. Non hai detto che deve rimanere tutto così come l'abbiamo trovato, se no, allora non ha senso far politica, no? Ascoltare la gente, confrontarci con la gente. Se si parla con la gente, se si ascolta la gente, si deve arrivare poi a una soluzione delle problematiche che ci dice la gente, che ci racconta la gente, se no non ha senso. C'è un altro progetto lasciato dalla passata amministrazione Malegni, di cui ha fatto parte, è quello del Museo Mitorai. Si andrà avanti esattamente così? Siamo già in ritardo sul Museo Mitorai, è chiaro che si andrà avanti, anzi, io credo che è fondamentale Malegni a Roma, credo che sia un punto di riferimento anche per la realtà della Rocca di Sala, per l'ex camp, per il salto della gerria, il problema della stazione, cioè noi abbiamo delle problematiche importanti che con Malegni a Roma risolveremo nei prossimi anni e questo sarà ulteriore sviluppo e arricchimento a Pietrasanta e quindi un'economia sempre in continua espansione nei prossimi anni. Questo è il nostro obiettivo, più visitatori. Una volta che entrerà a ritmo il Museo Mitorai con lo spazio dedicato agli artigiani, con tutto quello che poi è come si dice il contorno, l'attività di ristorazione, tutto quanto, è un valore aggiunto notevole rispetto a quello che è oggi Pietrasanta. Quindi questo sarà un valore aggiunto, un arricchimento per la città. Questi spazi poi saranno continuamente rinnovati anche dal punto di vista dello spazio degli artigiani. Gli artigiani avranno uno spazio con cui far mettere in mostra anche lì le proprie opere. Quindi credo che sia il Museo Mitorai, il Museo degli artigiani, come si dice, una cosa formidabile per il nostro territorio e non solo per noi, anche per tutta la Versilia. Siamo quasi in chiusura di questa campagna elettorale. In questi mesi, in queste settimane, che cosa l'ha esaltata in positivo, cosa l'ha sorpresa in bene, cosa o chi l'ha delusa? Io mi sono impegnato fin da subito a questa campagna, è una campagna sicuramente pesante, nel senso degli impegni, per l'inizio della mattina finisci la sera, mangi qualcosa, poi vai a letto, non è che c'è tanto tempo da dedicare agli hobby personali o alla famiglia. Sicuramente ho avuto fortuna che la famiglia mi ha seguito fin dall'inizio, anzi mi sta affiaccando, quindi questo è importante, perché uno che si impegna così tanto non può, come si dice, rimanere da solo. Il supporto della famiglia, della mia famiglia, è fondamentale. Io credo, parlo con la gente, ho avuto tante soddisfazioni, gente che ti ascolta, ti apprezza, riconosce i tuoi lati positivi, il tuo modo di parlare, di ascoltare. Per me è una crescita, la politica, per me anche personalmente, mi ha aiutato a crescere, a elevarmi in qualche maniera, mi sento più formato, più sicuro, mi sento di affrontare tutte le problematiche che ci sono da qui a prossimi anni. Quindi per me la politica, delusione, mi ha deluso, forse, alcune persone, che magari pensavo alla fine di fare un percorso tutti insieme, però hanno fatto altre strade, però non è stata una delusione così pesante, pesante, insopportabile, assolutamente. Non c'è niente che per ora mi ha deluso, non ho una delusione precisa, sono sereno, tranquillo. Credo, la cosa più importante è vedere la gente contenta, che ti ascolta, che ti saluta, che ti abbraccia, che si stringe la mano, le famiglie che ti ricevono in casa propria. questa è la cosa positiva che mi fa guardare il futuro con molto, molto ottimismo e sono contento. Allora, vedremo come andrà a finire il 10 di giugno, noi intanto gli auguriamo, insomma, un in bocca al lupo. Grazie, buona giornata a tutti voi. Buona giornata a tutti voi.